Musica Ma vinto le due edizioni del Radio Vagliossalane che noi salutiamo sempre e semmai in qualche modo possa riuscire ad ascoltarci Alma Racing porta in gara la vettura numero 101 quella di Rustichelli in coppia con Cirio Rustichelli, allora qui si parlava anche prima di questo equipaggio anche di scelte di gomme, voi? Eh purtroppo presumo come tutti siamo partiti con l'asciutto perché nessuno si aspettava questo temporale quindi cerchiamo di avere la testa sul collo e di fare quello che uno si sente ma con dovuta cautela portarla a casa in altre parole bring it home, dicono i britannici, portiamola a casa vediamo di farla andare come deve andare poi ci sfogheremo domani visto che poi ci sono altre sei prove speciali che completano questo 59 mesi povelli delle Vagliossalane numero 101 stiamo parlando di Alberto Rustichelli e Martina Cirio Peugeot 208 GT della Racing Star 2 2006 Plus che è un'unica che è un'unica Grazie a tutti. Grazie a tutti.